In quest'ultima video lezione approfondiremo alcuni aspetti connessi all'intervento edilizio come l'agibilità, il collaudo degli impianti produttivi, le sanatorie e alcuni altri riempimenti connessi. La norma regionale prevede che entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, quindi a differenza della normativa nazionale che prevede 15 giorni, quella regionale ne prevede 30, è trasmessa al suo APE un'apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione con le modalità di cui all'articolo 24 del DPR numero 380 del 2001 del testo unico dell'edilizia. La dichiarazione di agibilità è immediatamente efficace e abilita l'utilizzo dell'immobile sin dalla data della sua trasmissione al suo APE. Si applica il procedimento in autocertificazione a zero giorni. Inoltre prevede che nei casi di cui all'articolo 7 quater della legge regionale 23 dell'85 che prevedono la possibilità di conseguire l'agibilità in deroga ai requisiti igienico-sanitari ordinari, si applica il procedimento in conferenza di servizi. Le direttive precisano anche che nei casi in cui il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività è conseguito contestualmente a quello per la realizzazione o la modifica dell'immobile in cui l'attività stessa viene esercitata, l'efficacia del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività è sospesa fino alla trasmissione della dichiarazione di agibilità, ovviamente ove la stessa è necessaria. Contestualmente l'agibilità deve quindi essere trasmessa la dichiarazione autocertificativa relativa a tutti i restanti adempimenti eventualmente necessari per poter esercitare l'attività a completamento del titolo abilitativo originario. Il tipico esempio è quello della notifica igienico-sanitaria per alimenti con il modello E1 che viene trasmessa appunto in fase di agibilità unitamente allo stesso modulo di agibilità e al modulo F39 che è quello che serve per chiudere il procedimento appunto con l'agibilità e gli ulteriori titoli necessari per consentire l'effettivo avvio dell'attività produttiva. La pratica deve essere inoltrata in questo caso a tutti gli enti coinvolti nel procedimento con cui è stato conseguito il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività perché appunto abbiano conoscenza del fatto che il titolo abilitativo acquisisce piena efficacia. In tali casi gli eventuali termini di decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività come ad esempio per la media struttura di vendita sappiamo che l'attività deve essere avviata entro un anno dal conseguimento del titolo per la grande struttura di vendita entro due anni, questi termini decorrono dalla data in cui lo stesso acquisisce piena efficacia a seguito dell'esplettamento di quanto sopra specificato. Quindi non decorrono dal momento in cui il titolo è stato rilasciato ma dal momento in cui acquisisce efficacia. Una particolare procedura prevista dalla normativa SUAPE che è immutuata dalla procedura prevista nel DBR 160 a livello statale per il SUAP è quella di collaudo. La procedura di collaudo di quell'articolo 39 della legge regionale 24 del 2016 si applica sempre quando la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo. Questo avviene ad esempio per i distributori di carburante, per i depositi e gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali e simili. La procedura di collaudo sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale compresi i lavori delle apposite commissioni di collaudo. Quindi anche se la norma di settore prevede che si debba riunire una commissione per effettuare un collaudo, in realtà oggigiorno si applica la procedura di collaudo SUAPE che è un collaudo sostanzialmente di natura autocertificata. Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo la dichiarazione di agibilità non deve essere presentata in quanto è parte integrante del collaudo stesso. Le strutture e gli impianti, dice la norma, sono collaudati da uno o più tecnici abilitati la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetti del collaudo i quali ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività. Il collaudo consente la messa in esercizio dell'impianto costituendo di fatto un titolo provvisorio per alcuni versi, questo perché contestualmente alla trasmissione del collaudo l'impresa deve avviare presso il SUAPE il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza. Un esempio tipico è la scia di prevenzione incendi, la richiesta di licenza fiscale ad esempio per i distributori di carburante eccetera. L'impresa può avviare l'attività produttiva subito dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo che costituisce tutti gli effetti di legge e titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività fino al rilascio degli eventuali atti di assenso definitivi da parte dei soggetti coinvolti. Anche al collaudo trova applicazione il procedimento in autocertificazione a zero giorni. Gli uffici competenti delle pubbliche amministrazioni effettuano i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto produttivo alla normativa vigente entro 90 giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo. Questo significa che per tutto quanto non diversamente previsto si applicano le regole del procedimento in autocertificazione a zero giorni ma i termini per le verifiche in questo caso sono ampliati fino a 90 giorni. Per quanto riguarda le sanatorie edilizie la legge regionale distingue le sanatorie edilizie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa e il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato e gli altri casi di sanatoria per i quali è necessario rilascio di un provvedimento espresso. Nel primo caso quindi le sanatorie autocertificate si applica il procedimento in autocertificazione a zero giorni a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione dovuta sia allegata alla dichiarazione autocertificativa. Solo in questi casi il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere conseguito anche contestualmente a quello per la sanatoria attraverso la presentazione di un'unica pratica al suo ape in cui quindi si sanano le diciamo lievi difformità presenti e contestualmente si legittima l'effettuazione di un nuovo intervento sul medesimo immobile. Le altre tipologie di sanatoria che sono quindi i procedimenti di accertamento di conformità e tutti quei procedimenti che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso di sanatoria in questi casi è esclusa l'applicazione del procedimento unico. In questi casi il suo ape trasmette la documentazione agli uffici coinvolti i quali operano secondo quanto previsto dalle normative settoriali quindi sostanzialmente il suo ape riceve la pratica e fa da passacarte rispetto agli uffici competenti che svolgono il procedimento secondo le regole appunto della normativa settoriale. Non si ha una conferenza di servizi in questi casi. Quando è necessaria una sanatoria con atto espresso eventuali successivi interventi sullo stesso immobile possono essere realizzati solo a seguito di presentazione di una pratica separata dopo la conclusione ovviamente positiva del procedimento di sanatoria. Un'altra procedura particolare prevista dalla legge regionale 24 del 2016 è quella del parere preliminare. La norma prevede che data facoltà agli interessati di chiedere tramite il suo ape ai diversi uffici competenti per materia di pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta sulla conformità allo stato degli atti dei progetti preliminari sottoposti al parere con il quadro normativo vigente senza pregiudizio per la definizione dell'eventuale successivo procedimento. È un procedimento particolare che può essere attivato quando ci sono diciamo dei dubbi sulla conformità di un determinato intervento e quindi prima di redigere un progetto definitivo esecutivo per ottenere i titoli abilitativi completi si sottopone un progetto preliminare quindi uno schema progettuale alle amministrazioni competenti per verificare se sussiste la conformità e quindi se procedere successivamente alla redazione del progetto completo alla presentazione di una pratica per l'acquisizione del titolo abilitativo. Il suo ape provvede a richiedere i pareri agli uffici identi competenti direttamente o anche facoltativamente mediante la convocazione di una conferenza di servizi preliminare come disciplinata dall'articolo 14,3 della legge 241 del 90. In caso di parere preliminare favorevole l'eventuale successivo procedimento in conferenza di servizi riferito al medesimo progetto quindi col medesimo livello di dettaglio del progetto sottoposto al parere preliminare una cosa che accade abbastanza raramente ma potrebbe capitare che coinvolga i medesimi enti che si sono già espressi sul progetto preliminare si conclude entro la metà dei tempi ordinari quindi entro 30 giorni anziché 60 giorni. Per concludere la norma regionale prevede che la denuncia per le opere in cemento armato a struttura metallica di cui è l'articolo 65,1 del testo unico dell'edilizia nonché i progetti di variante la relazione a struttura ultimata e il collaudo statico riferito alle stesse strutture sono presentati esclusivamente al suo ape per tutti i procedimenti che rientrano nella propria competenza. Cosa succede? Questi adempimenti si espletano attraverso la presentazione sulla pratica edilizia con la quale è stato conseguito per l'appunto il titolo abilitativo per l'effettuazione dell'intervento. Esistono delle classi di comunicazione apposite che consentono la trasmissione di questi documenti. Per gli interventi edilizzi in corso di esecuzione alla data del 13 marzo del 2017 che è la data di entrata in vigore della legge regionale 24 del 2016 per i quali è già stata presentata la denuncia quindi il progetto delle opere strutturali i documenti successivi sono presentati secondo le modalità previgenti direttamente agli uffici del genio civile regionale. Analogamente quindi direttamente presso il genio civile si procede secondo le modalità previgenti in tutti i casi di deposito di documenti relativi a titoli edilizi a interventi edilizi il cui titolo abilitativo non è stato conseguito presso il suo app o presso il suo app e quindi non c'è una pratica sul sistema informatico regionale salvo il caso che è previsto espressamente dalle direttive di presentazione degli stessi documenti contestualmente alla dichiarazione di agibilità.